Avvocato, maestro, come amo questo giardino con l'edera che sale lungo il muro e le rose profumate di maggio. Venite qui, ho fatto mettere un tavolino e ho tutto ciò che serve per scrivere la mia musica. Allora, caro Rossini, ho inteso che le hanno dato del codino. Lo so, lo so, me lo dicono sempre anche i repubblicani, i quali avrebbero preteso che io diventassi il capobanda di tutte le musiche militari. Troppa grazia! Era una prova di liberismo che vi si chiedeva. Ne date tante voi, infatti... Infatti che cosa? Non siamo liberali forse perché non compiamo atti avventati che potrebbero compromettere tutto il bene che è stato fatto, come vorrebbero quelle teste calde di Adinò, di Pepoli, di Tanari, di Tadolini. Noi facciamo di più. Quando gli austriaci si recarono a Sant'Agata per festeggiare la vittoria di Novara, noi tenemmo le finestre chiuse al loro passaggio. Che coraggio, eh! Persino a teatro si è chiesto a Tadolini di cantare nel barbiere questa Italia benedetta. La facciamo sì o no? Già, e chi andò in carcere fu il cantante. Ma non mostriamo anche noi pubblicamente un ardimentoso patriottismo per non servirci di merci austriache? non fumiamo e non tabacchiamo più. Così voi, professore illustre, vi sacrificate per la libertà? Eh sì, ho fatto tanto per lei e anche per voi. Per me? Certo, sono stato io a pregare il povero Ugo Bassi di Persuaderi Bolognesi a richiamare voi, illustre maestro, dopo che tre anni fa ve ne andaste. Causa e fischi, già. Gioacchino Rossini, onore d'Italia, non deve no ricevere questo affronto dalla sua seconda patria che egli tanto ama. Bene, bravo, una presa, professore. In alto i cuori. Grazie. Grazie.